Eccoci qui, siamo all'inizio del secondo weekend delle nazionali di ginnastica artistica GAF 2018 siamo sempre qui in diretta dal Palazzetto dello Sport di Cattolica io sono sempre Diana e vicino a me ho sempre il mio amico Pasqualo Pasqualo, ascolta, hai notato, hai fatto esercizio fisico? Bravo, bravo, ascolta, fammi vedere come sei portuto fai un po' un esercizio di atletica, non lo so, di ginnastica artistica bravo, 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 staresti quasi da podio Pasqualo, sai, quasi da podio, quasi ma, ahimè, qui non c'è il tuo podio eh no, perché qui sul podio salgono le straordinarie atletiche provenienti da tutte le regioni d'Italia praticamente questo weekend l'età delle atlete si è anche abbassata quindi abbiamo anche delle piccole atlete che tra poco Pasqualo vi accompagnerà a vedere vi ricordiamo che anche questo weekend tantissime sorprese sabato e domenica una chiusura scintillante adesso io vi faccio fare un giro insieme a Pasqualo perché ci sono le gare attive all'interno del nostro palazzetto dello sport e io vi aspetto per i saluti vai Pasqualo stai attento eh grazie a tutti 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 così viene molto meglio allora noi vi salutiamo adesso vi lasciamo spazio alle gare Pasqualo ha riscosso moltissimo successo avete visto quanto pubblico anche oggi a seguire le ragazze qui ai campionati GAP ringraziamo Granfondo Squali che ci presta la sua mascotte anche per i campionati e noi ci vediamo domani di GAP e noi ci vediamo domani e continuate a seguirci e domani sempre qui campionati GAP